che poi alla fine vi dico la verità non lo so neanche quale sia la parte più bella della mia casa o meglio del panorama che si può vedere dalla casa mia sarà forse quella del monte cioè di san marino oppure sarà quella che si vede verso il mare che è altrettanto stupenda ciao don marco mi stavo porgendo questa domanda spesso in quaresima si sottolinea la conversione e se ne parla tanto ma che cos'è effettivamente la conversione? ciao bella domanda quella di questa sera mi chiedi che cosa sia effettivamente la conversione e questo significa solamente una cosa che hai capito che la risposta che normalmente viene data a questa domanda è sbagliata o quantomeno non è esaustiva dunque di solito si dice che la conversione è lo smettere di compiere dei peccati grazie bravo faccio un applauso complimenti se ce la fai dimmi qual è il tuo segreto perché io ancora non l'ho trovato e credo che nessuno l'abbia ancora trovato e se ci sei riuscito a vivere senza peccati beh allora un applauso è il minimo che si possa fare cosa significa convertirsi dunque? significa puntare il tacco e girare la gamba in modo da guardare in una direzione diversa rispetto a quella verso cui siamo normalmente soliti e abituati a fare come guardare il monte o guardare il mare e mentre ci si verte cioè si gira lo si fa con cioè non è che uno sceglie a caso dove guardare mare o monte ma la conversione è cambiare sguardo in modo tale da vedere Gesù in ogni cosa che si fa un esempio devo fare una scelta la conversione mi sprona a chiedermi che cosa farebbe Gesù? se non sono convertito invece avrò altri parametri di riferimento e non mi farò questa domanda sento già il brusio di tanta gente che guardando questo video dirà ma cosa vuol dire che io non sono ancora convertito perché sinceramente non penso mai a Dio quando devo fare una scelta o dire qualcosa anche qui un grande applauso perché se lo stai pensando ringrazia il Signore e appunto convertiti io nel frattempo per non saperne leggere né scrivere ho deciso dove guardare verso il mare perché in queste sere dal luogo più bello di San Marino che è Borgo Maggiore si vede che è una meraviglia se non abitate qui vi aspetto per una gita quando si potrà tornare a viaggiare e per il momento spero di averti fatto comprendere appunto che cos'è la conversione non è altro che il guardare le cose come farebbe Gesù senza timore, senza aver paura, senza moralismi senza come dire il pensare che se non sono perfetto e continuo a peccare allora non vado bene perché tutte queste sono menzogne che il demonio pone nella nostra testa perché vuole portarci via dall'unica cosa necessaria della nostra vita che cos'è? è naturalmente Lui, Gesù, il Signore la cosa più bella, anzi la persona più entusiasmante e affascinante che possiamo incontrare nel nostro quotidiano a domani